Tra poco Sul canale 17 di Fano TV l'informazione locale Tragico incidente in superstrada all'altezza di Sant'Ippolito muore un bimbo di 3 anni La battaglia degli espropri i 5 stelle di Fano presentano una interrogazione in consiglio comunale Proseguono i lavori di asfaltature Asfaltature delle strade questa volta tocca Carignano e Ronco Sambaccio Fine settimana pieno di appuntamenti in città spopolano Fano Geo dedicata all'agricoltura e la città da giocare con strade chiuse per far divertire più piccoli Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia Forse una distrazione all'origine del tragico incidente che si è verificato l'altra sera in superstrada sulla E78 all'altezza di Sant'Ippolito un incidente, un tamponamento nel quale ha perso la vita un bimbo di soli 3 anni Una vita spezzata all'età di soli 3 anni Si chiamava Crissi il bambino deceduto nello schianto che si è verificato domenica sera in superstrada intorno alle 19 Il piccolo stava viaggiando a bordo di una Hyundai Atos alla guida la mamma Deborah Bisbocci trentenne di Fossombrone che all'altezza del restringimento della carreggiata per i lavori sul ponte di Sant'Ippolito non è riuscita a frenare in tempo e ad evitare l'impatto con l'auto che la precedeva una Lancia Delta che a sua volta si è scontrata con una Fiat Panda un tamponamento violento che non ha lasciato scampo al bimbo catapultato contro il sedile anteriore Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento e non è chiaro se Crissi fosse legato regolarmente al seggiolino Quando sono arrivati i soccorsi giunti in ambulanza da Calcinelli e nelle ambulanze ad Ancona il suo cuore aveva già smesso di battere Strazeanti le urla della mamma udite dagli automobilisti rimasti bloccati sull'arteria ignare di quanto stesse accadendo un'immagine terribile la disperazione lo sgomento negli occhi dei presenti e un lenzuolo bianco deposto sopra il corpicino del piccolo disteso sull'asfalto nell'incidente sono rimasti feriti sia la madre che ha riportato contusioni e traumi sia i quattro passeggeri tutti di Fossumbrone che erano a bordo delle altre vetture coinvolte trasportati rispettivamente al San Salvatore di Pesaro e al Santa Croce di Fano non sarebbero in pericolo di vita sul posto per i rilevi di legge è intervenuta una pattuglia della Polizia Stradale di Urbino I pompieri del Comando Provinciale di Pesaro Urbino piangono la scomparsa del collega Roberto Iacucci di 57 anni di Villa Ceccolini ucciso da un'infezione fulminante nella notte fra venerdì e sabato scorsi Iacucci, capoturno dei Vigili del Fuoco era stato ricoverato all'ospedale di San Salvatore di Pesaro per dolori addominali ma pare che un'infiammazione al pancreas non gli abbia lasciato scampo i funerali si svolgeranno domani alle 15.30 nella chiesa di San Fabiano a Villa Ceccolini Iacucci lascia la moglie e due figli e adesso cambiamo argomento parliamo degli espropri gli espropri da parte di società autostrade per le opere accessori alla terza corsia della 14 che adesso finiscono in consiglio comunale con un'interrogazione del Movimento 5 Stelle di Fano Abbiamo assistito a tanti balletti in questi giorni tante parole il sindaco che si preoccupa di tutta questa situazione ma come spesso accade c'è un atteggiamento un po' gattopardiano perché grandi incontri tanti incontri poi però tutto muove per nulla muovere sembrerebbe e allora noi con questa interrogazione vogliamo andare proprio nel merito della questione anche per denunciare il fatto che questo progetto è stato calato assolutamente dall'alto senza nessun coinvolgimento dei cittadini stessi un progetto che oltretutto non ha avuto secondo noi neanche una supervisione dei politici da parte dell'amministrazione locale ma solo dei tecnici e appunto questo ha fatto sì che ci sia stato un grandissimo malcontento per l'ubicazione di certe strade l'esempio è quello di Tombaccia è quello che porteremo in consiglio comunale una strada nuova che taglierà a metà praticamente il quartiere di Tombaccia e diciamo confinerà almeno tre o quattro abitazioni in una specie di triangolo di cemento tra tre strade diverse senza quasi possibilità di uscita quindi ecco è una situazione che deve essere assolutamente cambiata noi a questo punto facciamo delle proposte una è innanzitutto per quanto riguarda Tombaccia è lo spostamento di alcune decine di metri del rotatore della strada verso monte creando così uno spazio nuovo, diverso per cui la nuova strada non andrà a tagliare a metà Tombaccia ma si posizionerà nel retro dell'abitazione quindi il quartiere, la zona sarà abbastanza tutelata da questo punto di vista ma più in generale per un'opera che sono le opere compensative della terza corsia che costano circa 70 milioni di euro proponiamo l'istituzione di un ufficio preposto di un gruppo di esperti preposto da parte del comune per far sì che tutto il progetto sia vigilato nel miglior modo possibile e che praticamente ci sia possibile fare appunto queste piccole modifiche che anche noi abbiamo proposto ma che ci potrebbero essere anche da parte di altre persone dagli stessi cittadini in modo che si possa verificare la fattibilità e poi la completa realizzazione nel miglior modo possibile di queste opere come sempre le vostre segnalazioni per la nostra redazione sono molto importanti per inviarcele potete utilizzare anche l'applicazione Whatsapp gratuita al 338 49 68 250 questa sera andiamo al Vallato dove un telespettatore un reporter di strada ci ha segnalato una zona adiacente al campo da calcio utilizzato dall'associazione sportiva delfino che si trova in una situazione di degrado siamo in via Papiria a Fano poi invece nel parco di fronte sempre il nostro reporter ci ha segnalato la poca educazione dei padroni che non raccolgono gli escrementi dei loro cani in crescioso ci ha scritto perché sia noi che i bambini che giocano nel parco siamo costretti a dover guardare in continuazione dove appoggiamo i piedi e a proposito di reporter di strada restate con noi perché subito dopo il prossimo servizio vi facciamo vedere delle immagini che ci sono arrivate possiamo dire quasi in diretta da via Palazzi a Fano dove c'è stata una rottura la rottura di una tubatura dell'acqua e che ha generato una vera e propria fontana all'aperto la vedremo tra un istante dopo il prossimo servizio che riguarda i lavori di asfaltatura che sono partiti a Carignano e a Roncosambaccio entro il mese di luglio tempo permettendo anche le zone di Carignano e Roncosambaccio avranno le nuove asfaltature nelle strade dopo il lungomare di Sassoni e di Torrette e di Fano i lavori inizieranno qui i primi di giugno intanto ha preso il via la fase di preparazione questa mattina l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanese ha effettuato un sopralluogo per avvisionare l'avvio del cantiere partono ovviamente all'Alfinine per arrivare fino all'abitato di Carignano per la via del Boschetto sono lavori importanti tanto attesi infatti anche stamattina la gente ci ha accolto anche a braccia aperta nel senso che si aspettava che iniziassero questa settimana ovviamente la ditta Cristini che ha vinto l'appalto dei sei lotti in cui abbiamo diviso la città inizia i lavori con le pulizie dell'erba con il taglio dell'erba con la pulizia delle caditoie stradali poi dopo il ponte al primo di giugno inizieranno i lavori veri e propri di asfaltatura lungo tutta la strada che prevederanno anche la sistemazione delle frane i dissesti franosi erano stati provocati a causa del maltempo a marzo 2015 causando notevoli disagi e la viabilità e danni sia alla rete del gas che alle tubazioni dell'acquedotto i residenti chiedevano da tempo un intervento urgente da parte del comune questa sollecitazione è stata fatta agli amministratori anche durante l'ultima assemblea pubblica ed ora una volta stabilizzati i movimenti franosi si potrà procedere a ripristinare il manto stradale una volta terminati qui dove proseguiranno i lavori sì non saranno solo per Carignano saranno anche per la zona di Rocco Sambaccio quindi faremo successivamente anche la sistemazione sia della strada che passa nel centro abitato di Rocco Sambaccio con anche delle restringimenti per limitare la velocità e anche via del castello che è la strada che appunto dal Fenine sale su per Rocco Sambaccio quindi sono altri chilometri di strada che aggiungiamo quelli comunque già in corso d'opera l'appalto prevede una spesa complessiva a base d'asta di oltre 600 mila euro allora avete visto gli scavatori all'opera anche in via Palazzi a Fano dove andiamo subito a vedere le immagini del nostro reporter di strada che si chiama Giuseppe Quagliarella che naturalmente ringrazio guardate che immagini spettacolari che ci arrivano appunto da via Palazzi siamo a due passi dall'incrocio con via Negusanti qui c'è stata una rottura evidentemente di una tubatura dell'acqua e guardate che getto con quanta pressione questo getto d'acqua che sta andando contro questa abitazione questo è ripreso da un'altra angolatura e dunque questa è la situazione poi poco fa è arrivata un'altra immagine che mostrava l'arrivo appunto di un escavatore quindi adesso si sta cercando di chiudere e di ripristinare tutto quanto naturalmente inutile dirlo via Palazzi è stata chiusa al traffico dalla polizia non solo la municipale ma anche la polizia stradale allora andiamo avanti adesso con il nostro telegiornale partirà entro il mese di giugno il risanamento conservativo dell'istituto Santa Marta di Pesaro per un importo stanziato dalla provincia di 1.200.000 euro è stato infatti pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori che riguarderanno il risanamento di tutti i solai della struttura e la sistemazione di una delle cucine l'istituto Santa Marta lo ricorderete appunto lo sapete è la sede dell'istituto alberghiero l'obiettivo è rendere fruibile per l'inizio del nuovo anno scolastico tutti gli spazi dell'edificio compresi gli uffici amministrativi che ora sono ospitati nella sede della provincia ieri giornata giornata di sole di mare e tanti si sono riversati sulla spiaggia ma non solo anche in città dove per l'occasione c'erano due iniziative importanti che hanno richiamato molto pubblico Fanogeo argomento agricoltura e la città da giocare invece dove dopo aver chiuso la strada principale via di Gramsci tanti tantissimi bambini si sono riversati appunto in strada per giocare il cartello sulle transenne che delimitavano la zona riservata era chiaro nel messaggio la città di Fano chiude al traffico le strade per regalarle alle bambine e dai bambini protagonisti indiscussi loro e la loro voglia di giocare saltare sperimentare e conoscere l'affluenza è stata massiccia complice sicuramente la domenica soleggiata e la strada si è trasformata in una distesa colorata di famiglie musica e grida gioiose che per un attimo ha ricordato il Viale Gramsci di carnevalesca memoria è una grande festa sono già migliaia le persone che stanno arrivando in Viale Gramsci e al Pincio del resto ci sono oltre 90 tra associazioni scuole che stanno animando con attività e laboratori questa città da giocare 2016 un ottimo risultato che ci aspettavamo di questa giornata ma anche di un intero mese di eventi che abbiamo messo in calendario anche per celebrare i 25 anni della Fano Città dei Bambini e delle Bambine che tra l'altro nel prossimo anno andremo a strutturare ulteriormente perché l'obiettivo è non far vivere questo progetto solo un giorno all'anno ma farlo vivere tutti i giorni e quindi una serie di progetti sperimentali che vedranno protagonisti i quartieri a partire da quello di Sant'Orso proprio perché vogliamo portare questo progetto fuori dai confini delle scuole e farlo vivere per tutta la città a loro disposizione avevano un chilometro di associazioni sportive laboratori creativi con materiali naturali mostre tematiche ed eventi collaterali dalle 15 alle 20 Viale Buozzi Il Princio e Viale Gramsci erano territorio loro e della città da giocare 2016 un'edizione di rilancio e di grande impegno per l'amministrazione sul tema la città dei bambini e delle bambine Grande soddisfazione perché veramente c'è tanta gente tante associazioni quindi a dimostrazione che abbiamo colto nel segno questa iniziativa apprezzata ma soprattutto che hanno colto anche il significato vero di questa iniziativa e dico subito che già dal prossimo anno estenderemo questa cosa anticipandola con dei momenti nei singoli quartieri Fanogeo da tempo è diventata una kermess in piena regola e non solo un evento spot di due giorni ma un vero e proprio contenitore della durata di una decina di giorni che comprende e ingloba diversi eventi tutti con tema l'agricoltura e il mondo rurale si è partiti venerdì 20 maggio con la presentazione del libro del giornalista e collaboratore Rai Piero Riccardi Riprendiamoci il cibo ed una degustazione in serata di ricette di alta gastronomia ma con un'identità locale ben precisa e si finirà sabato e domenica prossimi con la festa della mietitura alla cooperativa Falcineto in mezzo sabato e domenica appena passati al Codma di Rosciano è andata in scena la ventottesima edizione della Fiera Agricola che da sempre rappresenta l'appuntamento per eccellenza per agricoltori e appassionati del mondo rurale da due stagioni sotto l'egida della proloco di Fano con il chiaro intento di far fare a questo appuntamento di inizio estate un vero salto di qualità Fanogeo l'abbiamo presa per farla crescere due anni che ce l'abbiamo e quest'anno siamo soddisfatti siamo soddisfatti perché le due giornate di sole ci hanno portato gente tante didattiche tanti produttori quindi veramente è una bella edizione ancora con tante possibilità di crescita perché abbiamo tanti agricoltori che ci potrebbero aiutare e già qualche aggancio l'abbiamo preso una bellissima edizione per il momento all'inaugurazione di sabato mattina hanno partecipato oltre alle autorità locali, provinciali e regionali più di 300 bambini per i laboratori di didattica che hanno invaso il Codma con la loro allegria e curiosità rapiti come sempre dagli animali presenti e dalle esibizioni dei rapaci visti per lo più sui libri di scuola l'agricoltura è un settore importante qui abbiamo eccellenze importanti aziende importanti quindi questa edizione questa manifestazione che è giunta alla 28esima edizione conferma le radici e questo legame forte ora il teatro di Fanogeo si sposta nei campi martedì 24 maggio e giovedì 26 per le giornate del grano e le prove di aratura con i giganteschi trattori e poi sabato e domenica al Falcinetto Park altri due giorni a tutta campagna il teatro della fortuna si appresta ad ospitare la sedicesima edizione del festival fuori classe dal 25 al 27 maggio oltre 250 studenti calcheranno il palcoscenico per presentare i lavori di laboratorio teatrale e verranno ufficializzati invece venerdì sera alle ore 21 davanti a un notaio i nomi dei consiglieri eletti nell'ultima votazione per il rinnovo dei vertici dell'ente carnevalesca un appuntamento che si preannuncia caldo viste le recenti polemiche relative all'esito appunto delle votazioni e adesso passiamo al calcio di serie D perché ieri al Mancini a Fano si è disputata la finale playoff che ha visto trionfare l'Alma Juventus contro il Campobasso la partita è finita a 3 a 2 con i gol di Gucci Civile e Borrelli ora la squadra di Alessandrini può sognare il ritorno in Lega Pro sperando nel ripescaggio il Consiglio federale si riunirà martedì 7 giugno e deciderà anche se confermare il contributo oneroso dei 500 mila euro e si è concluso questa mattina con lo sbarco alle 7 al porto di Ancona il pellegrinaggio a Meggiugorio di Televoce Cristiana iniziato mercoledì scorso tra le mete inserite nel programma la salita a piedi alla colina delle apparizioni e al monte della croce alto più di 500 metri è tutto grazie per averci seguito l'augurio di una buona serata arrivederci grazie per aver guardato il nostro corso